L'Unimol è un'università moderna e dinamica, in un aggettivo attrattiva. È l'aspetto che i principali protagonisti della vita dell'Ateneo, docenti e studenti, hanno fatto emergere nel corso della giornata dello studente celebratasi ieri. Il principale punto di forza dell'Ateneo molisano, hanno sottolineato gli intervistati, risiede proprio in quella che apparentemente potrebbe sembrare una criticità, ma che in realtà l'università ha fatto diventare un punto di forza. L'essere un piccolo e, se vogliamo, periferico Ateneo, rende infatti possibile l'instaurazione, in quella realtà, di un rapporto diretto tra docente e studente, in un clima di sostanziale serenità. La vicinanza con i docenti è fondamentale. Chi, come me, viene da grandi Atenei, conosce la difficoltà di poter incontrare un professore. Tutto questo nella nostra università non accade, perché il professore ha come priorità quella di seguire gli studenti, quello che dovrebbe essere chiaramente la priorità di ogni insegnante, ma qui è più facile perché i numeri ci consentono di avere un rapporto diretto costante, di accompagnare lo studente dal primo giorno fino alla laurea e di accompagnarlo anche nella sua crescita umana, qualora dovessimo riscontrare eventuali difficoltà da poter aiutare a superare in qualsiasi momento. E pur piccolo, l'Ateneo molisano riesce ad essere attrattivo per studenti spesso provenienti, molto al di là dei confini regionali. Pur essendo comunque un piccolo Ateneo, abbiamo comunque la presenza, essendoci comunque facoltà a livello nazionale, anche a numero curioso, abbiamo la presenza comunque di tutti, di studenti comunque da parte di tutta Italia, abbiamo comunque dei veronesi, dei palermitani e dei ragazzi Erasmus, poco tempo fa sono arrivati comunque degli spagnoli, quindi comunque anche da questo punto di vista vi si presenta una grande crescita dell'Università del Molise. Punti di forza questi a quanto pare confermati dal riscontro dei numeri delle nuove iscrizioni. In proposito, parola al professor Luca Brunese, dallo scorso maggio nuovo rettore dell'Ateneo. La campagna di iscrizione di matricolazione è ancora in corso, diciamo che noi guardando il pari data rispetto allo scorso anno, io avevo dichiarato a inizio l'apertura delle iscrizioni che sarei stato contento e molto soddisfatto di mantenere il numero di iscritti dello scorso anno, considerato che si diplomano come è noto sempre meno studenti, siamo già molto soddisfatti perché questo numero è sostanzialmente già quasi raggiunto ancora due settimane dalla chiusura delle iscrizioni. Direi che siamo soddisfatti, sarà un bel risultato. Anche quest'anno l'Università ha voluto fare lo sforzo di mantenere gratuito il servizio dei trasporti tra le varie sedi e anche da sedi più lontane. Stiamo lavorando anche per migliorare pure quelli che sono i servizi all'interno della città perché noi abbiamo per esempio la richiesta degli studenti del polo di Tappino dove c'è ingegneria medica, c'è medicina e le lauree sanitarie che vedono un po' complesso arrivare con i mezzi pubblici in quella sede e stiamo lavorando per un accordo anche su questo punto. Grazie a tutti.